Marostica. Sono nove i volontari del 184esimo nucleo di protezione civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri del Marosticense, impegnati da sabato scorso a Monte Monaco, paese di 700 abitanti della provincia di Ascoli-Piceno, già amartoriato dal terremoto di agosto e settembre, messo ancora a dura prova ora da forti scosse e abbondanti nevicate. In questi giorni i volontari non hanno avuto tregua con strade impercorribili da sgomberare e muraglie di neve da abbattere. I volontari hanno collaborato alle ricerche di una persona dispersa e hanno liberato numerose famiglie rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni.